Endometriosi e rettocele. L'endometriosi è una patologia dove abbiamo un tessuto endometriale in sedi peritoneali o nell'ovaio, in cui frequentemente abbiamo cisti a cioccolato. Può trovarsi tessuto endometriale anche a livello appendicolare e a livello del retto extraperitoneale. La sintomatologia è fortemente dolorosa con rischio di apertura del setto rettovaginale con una fistola rettovaginale. Gli stimoli ormonali possono causare inoltre pseudomestruazioni, se avvenente a livello del peritoneo. Questo comporta un temporaneo scollamento dei foglietti che possono determinare dispareonia. L'endometriosi del retto sigma dà anche emorragia che può arrivare fino all'occlusione. Possiamo avere anche emoperitoneo con aderenze e se colpiscono la tuba si ha sterilità. Quindi qual è il trattamento? Innanzitutto una terapia ormonale, in secondo luogo la chirurgia, cioè asportare il tessuto endometriosico esterno alla sede di origine. I leiomiomi possono essere invece peduncolati o intramurali. Peduncolati se sporgono e hanno praticamente la possibilità di essere rimossi molto facilmente scoagulando la base o con strutturatrice automatica. Se sono interni all'utero vanno asportati dal ginecologo. Gli intramurali di solito non vengono operati, a meno che le dimensioni non siano eccessive o comunque soprattutto se la donna è fertile, perché operare un leiomioma comporta dei rischi. Poi sempre per la patologia del pavimento pelvico parliamo anche del rettocele, dove noi abbiamo un prolasso rettale che può essere per eversione o inversione. Per eversione è soltanto mucoso, per inversione invece è di tutto lo spessore. Il rettocele soprattutto si verifica nelle donne, dove il settoreto vaginale è lasso e quindi prolassa fino in vagina. Nell'uomo c'è la prostata che fa invece da barriera. Le caratteristiche che abbiamo detto delle donne, soprattutto quelle che hanno fatto cure dimagranti per l'obesità, viene esaminato con la colpo cisto-defecografia, che è indispensabile per la diagnosi e il trattamento chirurgico può essere appunto una prolasectomia transrettale con tecnica STAR secondo l'ongo oppure una retto-pessi in laparo, che è quella che si fa di più. Si apre quindi il peritoneo, si isola il retto, viene scollato il setto retto vaginale, che è per buona parte adiposo, viene terminato l'isolamento e si inserisce una rete di propilene sagomata fissata con dei punti proprio a livello del setto. Questa gira attorno al retto a spirale mantenendolo in alto. In basso viene agganciata tramite un filo al grasso perirettale e in alto invece viene fissata sul sacro con una graffa spiraliforme specifiche senza sanguinamento. A questo punto si verifica la sclerosi e il tutto viene ricoperto con peritoneo, quindi la rete è extraperitoneizzata e in questo modo è possibile concludere l'intervento con sutura. Grazie. 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 Grazie.